Oggi abbiamo ricreato quello che faremo domenica in piazza per la pista carcioma in terza edizione con dei cornetti salati e ripieni con un po' di zola e carciofi, poi dei carciofi grigliati, una tortigiana di carciofi, frittata di carciofi e finire i carciofi con patate al forno. Te lo puoi fare sia arrosto che bollito, grigliato, al forno, saltato, in pimpadella, con la pastella a bagnomaria, con le patate. Sì, c'è il suo Ramesagni, potete essere insieme alla pista di carciofo, 2013, domenica 14 aprile. Sì, c'è il suo Ramesagni. Sì, c'è il suo Rame. Sì, c'è il suo Rame. Sì, c'è il suo Rame.